Il nuovo Trianon Viviani apre la propria stagione con due spettacoli di Raffaele Viviani messi in scena all'aperto. Dal 26 al 30 settembre, infatti, la Fondazione Teatrale di Forcella darà vita a Viviani per strada in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa del commediografo al quale è dedicato il teatro. Il progetto, curato e diretto da Nello Mascia, si compone dell'allestimento di due atti unici vivianeschi, Porta Capoano e Mezza Ferrovia. A spiegare il progetto la direttrice artistica del Trianon Marisa Laurito e l'assessore alla cultura del comune di Napoli Eleonora De Maio. Questo è un progetto che io ho amato subito dal primo momento proprio perché il teatro arrivava in città, soprattutto poi con questi due testi ambientati da Raffaele Viviani a Porta Capoana e a Piazza Ferrovia. Purtroppo per questo problema del Covid vedremo se sarà possibile fare questa passeggiata del pubblico, farla da Porta Capoana alla Ferrovia perché sarebbe bellissimo. Stiamo lavorando per questo, però soprattutto io sono molto felice che si inaugura il teatro. Il teatro va al pubblico, al popolo di Napoli, ma soprattutto sono felicissima che si inauguri con questo progetto speciale Raffaele Viviani che durerà per un triennio con Nello Mascia. Un grande ringraziamento al Trianon per aver recuperato una parentesi sospesa prima del lockdown, nel senso che noi eravamo tutti pronti a celebrare lo scorso marzo questo importantissimo anniversario che riguarda Raffaele Viviani e chiaramente ci siamo dovuti interrompere perché marzo è stato il mese di pieno lockdown e di piena chiusura per il nostro paese. Quindi in realtà riparte questa stagione 2020-2021 con un impegno che avevamo con la città ma probabilmente con l'intero paese.